Il deputato Bonanno vuole intervenire, prego. Sì, signor Presidente, sull'ordine dei lavori, l'articolo 41 del regolamento. Io, ho aspettato, sono passate 24 ore, signor Presidente, io volevo sapere che a fine aveva fatto la Dicentrarcus Labrax, cioè in maniera più volgare Spigo, Labranzino o Ragno di Mare, perché mi è stata confiscata e io volevo sapere dove era finita e se qualcuno l'ha mangiata, o lo saperebbe che almeno la lisca fosse messa agli atti. Almeno la lisca fosse messa agli atti. La smetta, la smetta, non disonori quest'aula, basta. Andiamo avanti. Allora.